E' un dialogo particolare quello fra le 31 opere provenienti da collezioni nel mondo che raccontano la pittura metafisica dell'artista francese Pierre Pierol e i 11 oggetti della Wunderkammer del Teatro Mundi, che per l'occasione si trasferisce dalla sua abituale sede in via Cesalpino alla Galleria Comunale di Arte Contemporanea di Piazza San Francesco ad Arezzo. Noi siamo riusciti a portare ad Arezzo Pierre Pierol questo epigono di Salvador Dalì col suo surrealismo, col suo iperrealismo, insieme di valori formali, cromatici, veramente entusiasmanti. Devo dire che questa è al momento la mostra più bella che abbiamo fatto da quando io sono sindaco di Arezzo e sarà difficile superarla per qualità e per numerosità di opere. Sono quadri di grande coinvolgimento emotivo, con colori stupendi, spettacolari, con una cura nel disegno della forma umana e del paesaggio, veramente dell'acqua, veramente entusiasmanti. L'inaugurazione della mostra è in programma per venerdì 23 giugno alle 19 e sarà visitabile sino al 27 agosto. Si tratta della prima volta che l'artista francese, ultimo allievo di Salvatore Dalì, porta una sua personale in Italia. Avete il privilegio di vedere un assieme più di 30 quadri. È difficile di assemblare tutto questo perché da decine di quadri vengono dalla Florida, altri da Svizzera. Dunque avete questo privilegio a Arezzo? Non lo posso più fare nel futuro, penso. Allora avete dei quadri che nessuno li può vedere dopo, sono nelle collezioni private. Grazie. Grazie.